Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video dove con la mia migliore amica Ilaria faremo un test per verificare se siamo veramente i migliori amiche e incomincerò lei a fare le domande Allora, qual è il mio colore preferito? Viola E rosso Sì Cosa mi piace indossare? Tra elegante e sportivo, sportivo? Sì Chi è la mia migliore amica? Io Che cosa mi piace? The Senders of Frozen The Senders Sì Chi è che mi piace The Big Time Rush? Kandal Sì Mi piace pitturare le unghie? Sì Mi piace truccarmi? Sì Secondo te io ti voglio bene? Sì Secondo te sono la migliore amica? Sì Sì 10% Sì 100% Ok Comincio a chiedere le domande Le faccio io le domande Colore preferito? Colori preferiti Allora Il rosso e il verde Il rosso e il verde Migliore amica della palestra? Io Materia preferita? Matematica Maestre preferite? Italiano e matematica Mare e piscina? Mare Dolce salato Salato Che è più divertente per me? Io? Sì Coca Cola Acqua o aranciata? Acqua Dove sono nata? A Cosenza Quando sono nata? 15 aprile del 2007 Ok Siamo amiche al 100% E spero che questo video vi sia piaciuto E se volete un altro video con lei presente Scriveteci sotto nei commenti Quale tipo di sfida volete che facciamo Ok? Ciao Ci vediamo al prossimo video Un bacio